Ho soggiornato qui due giorni, qui ha soggiornato l'aperta nudità dei miei desideri inappagati, qui hanno soggiornato le mie abitudini, due giorni soffocate. Ed io ho sofferto con loro. Qui non c'è stato nulla, qui non mi è successo niente, qui non ho pensato a nulla. Sono stato solo il corpo, senza nicotina sufficiente, senza caffeina. Il corpo mal riscaldato. Dopo una quantità di giorni come questi, potrò ridiventare un essere umano. O non lo potrò mai.